Ho scattato. Ecco Dracula Untold, film col britannico Luke Evans che ci risprofonda nella mitologia dei vampiri combinata con la vera storia del principe Vlad. Siamo alle origini del mito di Dracula. Il giovane principe guida la carica per respingere i tentativi dell'impero ottomano di utilizzare la Romania come piattaforma per conquistare il resto d'Europa. Volevamo riprendere la storia grezza, viscerale, raccontarne le origini. Ci siamo presi la libertà di ripresentare questa storia come volevamo. La storia dell'uomo prima di tutta la costruzione leggendaria relativa al vampiro. Per interpretare in modo convincente il personaggio l'attore ha passato mesi ad allenarsi e fare esercizio per destreggiarsi con la spada. Ho dovuto mangiare molto poco, a parte pollo, manzo, pesce e verdure. Mi sono dovuto allenare con i cascatori ed è stato anche divertente. Ho dovuto fare tutto questo per la durata completa delle riprese. In un momento di disperazione Vlad sale su una montagna dove risiede un oscuro potere magico con la speranza di trovare qualcosa che tenga a bada le orde turche. Quel potere lo aiuta a sconfiggere i turchi, ma questo avviene pagando il prezzo della sua trasformazione in una creatura della notte. Il film è in distribuzione in tutta Europa da ottobre.